Ebbene a tutti ragazzi sono Giacomo Paseccio a tutti dovretti, ciao a tutti dovretti Oggi è una bellissima giornata ragazzi Ma come potete vedere ragazzi Dove guarda di Gesù Oggi racconteremo una favola di Peppa Pig Ragazzi racconteremo ragazzi Raccontiamo Allora ragazzi Raccontiamo questo Di quando Peppa Pig Fa la spesa Parliamo al mercato Cosa volete oggi per pranzo? Chiede Papa Pig E la famiglia Pig Sta facendo la spesa Spaghetti dice George Si spaghetti E insulta Peppa Al sugo Papa Pig ha un uice Ottima scelta Bambini Di che cosa abbiamo bisogno? Riflette Peppa Di servono spaghetti Pomodori e cipolle Esatto Dice mamma pig Abbiamo a prenderli Gioisse Peppa Peppa corre a prendere gli spaghetti E George E tu vai a prendere i pomodori Gli ordina I due corrono Emozionati Per il mercato Peppa mette gli spaghetti E le cipolle Nel carello della spesa Brava Peppa Si congratula mamma pig Dopo un po' George Ritorna Con il mano Della fragole Delle borse Tutti scoppiano A ridere E George Quelli che non sono Povodori Ma fragole Peppa ridacchia Possiamo usare Le fragole Come guarnizione Per il Restretto Dopo pranzo Mamma pig Sembra un ideale Deliziosa Dei piccoli tesori Dice Mamma pig Annuncia E Adesso ci servono Un'uova Cioccolato E farina Perché papà Chiede Peppa O E una sorpresa Allora ragazzi Ora possiamo Terminare questo video Ragazzi Che questo video È terminato Ragazzi Quindi ragazzi Se vi è piaciuto Lasciarci tanti like Attivate la campagna Dei aggiornamenti Se accoglio Del fatto Iscrivetevi al nostro canale Usciranno i video Alle 15.30 Iscrivetevi I commenti E io Ho raccontato la favola Ci vediamo Ci vediamo E ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti